E' un assassino psicotico. Mi piace. Torna alla Bloodshot DM e prova a suonare ancora il flaxo. Grazie. 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 nostri! Lasciatelo entrare mentre cerco di richiamare l'Hyperion. Ci ha incannato! Uccidetelo! Abbiamo un intruso! Prendilo, brutte fauci! Non ho tempo per questo! No! Attenzione! Non è duro! Non ho tempo per questo! 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 Sei dentro? Ottimo! Roland dovrebbe essere qui in giro! Sono sicura che saprai cavartela! Ma se succede qualcosa a Roland... Assicurati che non succeda niente a Roland! Togliamoci subito il pensiero! Sì, gran parte della mia merce è stata strappata dalle mani di avventurieri morti! Non divertirti troppo! Non divertirti troppo! Non divertirti troppo! Fammi sapere se qualcosa cattura la tua attenzione! Ti sei preso! Sto bruciando! Lo sto bruciando! Sentite qua, Hyperion! Non chiedo molto per Roland! Un milione di dollari! Ehi! È acceso sto coso? Tutto bene contro i Bloodshot! È da quando Roland li ha cacciati a calcinculo da Sanctuary che cercano di eliminarlo! Dovevo immaginarlo! Caro Roland! Non posso fare a meno di notare che i Bloodshot hanno una grande potenza di fuori! Se potete avere una trasmetta contro di loro! Dovete migliorare il vostro arsenale! Potresti armare i tuoi uomini con le munizioni ad alta qualità? Non potremmo fare! Se ve riferite da me, vostro arsenale sarà mia storia! Non potremmo fare! Per uscaldare i non vedi, non potremmo fare, non potremmo fare, non potremmo fare, non potremmo fare, per ripensate le Grazie a tutti. Grazie. Grazie.